1982 Facciamo un figlio Michele! Aspetta, aspetta, qua, qua! Qui, figlio! L'interpreto Michele, è un magistrato, è un momento particolare della sua vita, di studio, è il momento del processo Andreotti, quindi per lui è un momento importante, è anche nello stesso tempo un momento di crisi del suo matrimonio. Noi raccontiamo una storia pubblica, ma raccontiamo attraverso la storia pubblica anche una storia privata, che è molto profonda, di una famiglia che si disgrega per vari motivi, ma soprattutto per la passione che ci mettono a fare il proprio lavoro. È molto bello perché in realtà non c'è una divisione netta del magistrato e dell'uomo, anzi, vediamo questo uomo combattuto, che vive la sua vita dedicandola completamente a quello che sta facendo il suo lavoro, e vediamo anche il percorso di un uomo, di un marito, di un padre, con tutti i suoi difetti, con tutte le sue, anche le sue dolcezze e anche le sue grandi durezze nei confronti dei familiari. Quindi in realtà questa cosa netta non c'è. Questo testo è un testo molto privato, perché parla di Giuliano, della famiglia di Giuliano, di Giuliano stesso. La sfida era di renderlo universale, quindi che il pubblico si possa rispecchiare in una storia familiare, in una storia di crisi familiare, come capita a tutti. Non voglio dire che mi preoccupava, ma mi interrogavo sul fatto che fosse un testo molto personale, diretto dall'autore stesso. E quindi mi premeva che l'immaginario di Giuliano in qualche modo si avvicinasse al mio immaginario, o viceversa, insomma, che si sposassero i due immaginari. E quindi per me questo è importante, per poter dare anche un contributo mio personale di scrittura, di attore, a un racconto e a una regia. E io questo uomo, ovviamente, ho cercato di avvicinarlo anche alle mie vicissitudini. E' una crisi di un uomo, anche una crisi amorosa di un uomo, un uomo che si sente a dei momenti di up, dei momenti di down, quindi vede anche i suoi fallimenti, il suo baratro, ma vede anche le sue rette. E' una cosa che capita, è capitato anche a me nella vita, continua a capitarmi, e quindi mi sento molto vicino a questo uomo. Ovviamente ti dico che mi sento molto vicino alle cadute di questo uomo, agli inciampi, ma questo mi sembra anche una cosa più semplice, da uomo a uomo, diciamo. Il rapporto è stato molto bello con Giuliano, perché Giuliano è un regista attento, ma anche con una sua dolcezza, insomma, scostante ma dolce. Un po' come me, perché io sono uno di poche parole in realtà, però ci riconosciamo nel fatto che lavoriamo ardentemente su un racconto, cioè senza sosta, nel senso che, anzi, ci buttiamo dentro, senza particolare giudizio. Però la cosa importante per me da attore, e soprattutto più divento grande, più divento adulto, più importante, ed è una cosa che trovo in questa compagnia, ma davvero la trovo in questa compagnia, è quella di aprire il cuore. Al di là della tecnica, io da spettatore cerco un attore sul palcoscenico che apre il cuore, che ci apre il cuore, che ci faccia avvicinare a quello che racconta. E io credo che questa compagnia, quello che cerca Giuliano, sia questo, è una cosa che è sposo al 100%. Io ho 43 anni, quindi, insomma, mi ricordo benissimo quel momento, quei momenti. Però io da non siciliano, a parte il fatto che in quel momento empatizzavo tutta l'Italia nei confronti di questa cosa qua, ma la cosa che io ti dico che sempre mi capita, e ogni volta che passo per Capaci, io guardo lì, da non palermitano, e guardo anche quella stele che hanno fatto, questo è l'importanza del ricordo, perché io da non siciliano, ogni volta che passo di lì, penso a quel momento lì, e penso, ma com'è possibile che in uno Stato democratico occidentale, nel 92, che avessero messo il tritolo sotto la strada, cioè una cosa che non è proprio da Stato democratico occidentale. Quindi ogni volta che passo, comunque vi faccio sempre la domanda, e guardo sempre lì, guardo lì e poi guardo anche la casetta, no? La democrazia senza sottostante è detto, una alzia fu elevatissima, elevatissima dopo questa attività, che ho ucciso il nuovo e l'imparante di Gioia, sulla morte del prefetto di Corsol Terro, con il Gioia. Forgivene